Ciao ragazzi, mi chiamo Raffaele e sono di Casetta. Molti di voi non mi conoscono, ma sono sicuro che presto impareranno a conoscermi. Quest'oggi mi trovo in questa bellissima spiaggia di Formentera ed è da qui che ho deciso di lanciarvi un messaggio. Un messaggio rivolto a tutti coloro che vogliono cambiare la propria forma fisica, che vogliono stare bene nel proprio corpo, che vogliono iniziare ad avere una vita sana. Tra pochissimo sul mio canale saranno a vostra completa disposizione consigli su come allenarsi, consigli alimentari, e quindi su come cambiare la propria vita, iniziare a vivere in modo sano. E con questo vi saluto dicendoli che chi non sfida se stesso è un fesso. Ciao a tutti! Grazie a tutti!